ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video i vostri video le vostre collezioni di orologi questi simpaticissimi oggetti de ferro che ci mettiamo al polso e che ci arreccano così tanta gioia un hobby abbastanza particolare perché perché un orologio non è solamente un oggetto che segna il tempo no altrimenti anche si potrebbero collezionare anche microonde che ci segnano il tempo è un oggetto che rappresenta la nostra personalità il nostro modo di intraprendere questo questo hobby no uno ognuno ha stranamente ognuno poi ha dei marchi preferiti come ad esempio Longino, Mega no che sono i miei preferiti altri magari li posso vedere meno ci sono altre persone che invece si incistano in italiano si dice proprio incistare su un determinato marchio senza poi nemmeno sapere il motivo è abbastanza strana come cosa no quindi non è detto che il marchio non conta basta avere un bello orologio con le sue specifiche tecniche no no perché l'orologio con le specifiche tecniche perfette me lo posso anche far fare da Aliexpress perfetto ma non mi dice niente non è figlio dei tempi che furono un orologio che nasce dalla storia dell'orologeria per dire no con un marchietto sopra ecco che ci cambia tutta la vita a noi e poi è così funziona così c'è poco da dire se no cosa mi sto a comprare un Tudor un Tudor perché devi comprare tu compri una copia di un Tudor le fanno perfette e ti diverti no vabbè mi sto addentrando un po' troppo in un pantano adesso l'orologio del giorno ah questo qua è il mio simpaticissimo Brightling Chromator ormai è un pochino di tempo che lo sto indossando come vedete mi piace con questo bracciale qua così diciamo no tutto a cartucera è simpatico bello orologio poi c'è un quadrante quando sono fuori al sole che lo guardo non guardo nemmeno l'ora guardo l'orologio per come è fatto sinceramente proprio sprizza sprizza proprio scintilla vabbè dai la barra spaziatrice lì pronta a subire colpi del destino e io gliene darò un paio un paio di colpetti si darà a tutti ciao Davide mi chiamo Mattia ciao e oggi vi faccio di condividere con te la mia collezione di orologi bravo partiamo con questo Seiko Diver questo è il Capitan Villar certo o meglio la versione ispirata all'iconico modello degli anni 70 questo è un orologio secondo me molto molto riuscito da un punto di vista del design 40 mm in queste forme molto particolari allo stesso tempo un orologio molto robusto molto versatile e secondo me anche molto bello con questa lunetta questo quadrante verdi al quale appunto ho aggiunto questo orologio questo bracciale canvas un po' dello stesso colore grande orologio grande tool watch bravo secondo passiamo a questo anche questo un diver anche questo vintage inspired quindi il look anni 60 40 mm anzi 39 mm molto sottile questo è un orologio molto molto ben fatto molto ben fatto forse questo è l'orologio che se dovessi essere obbligato ad averne solo uno nella mia collezione o comunque un orologio da usare tutti i giorni per qualsiasi situazione forse sceglierei questo ora passiamo ad un classicissimo rolex digest questo 36 mm inizio anni 90 mi è stato regalato molto tempo fa l'orologio che ho messo molto in passato adesso metto un po' meno però è ancora in ottimo ottimo stato grande classico appunto l'orologio con numeri romani effetto campanile ma molto molto classico si è pratico dai va bene successivamente qui abbiamo un pezzo abbastanza inconsueto è un cronografo un cronometro anni 50 della Giga Lecoutre ma ha marchiato Lecoutre perché questo era il marco con cui esportavano negli Stati Uniti dici? l'orologio è un 36 mm monta in calibro Valigiu 72 classico per questi orologi e niente design è molto tipo si io gli ho dato il topino perché sempre insomma fa sempre parte di Giga Lecoutre che ci piace tanto però in questo caso questi che venivano mandati negli Stati Uniti venivano incassati negli Stati Uniti proprio completamente e lo si evince anche dal fatto che insomma incassano Valigiu 72 laddove Giga Lecoutre è famosa per avere i Calibri in House è la casa che ha realizzato il maggior numero di architetture differenti per i Calibri in House li dava anche a destra e a sinistra figurati un po' in questo caso c'è il Valigiu 72 perché gli assembravano sempre per il discorso dei dazi delle tasse imposte dal governo degli Stati Uniti nei confronti dei costruttori svizzeri storia complessa l'abbiamo visto anche con Wittnauer per Longin eccetera eccetera quindi insomma gli ho dato il top ma non è proprio un Giga Lecoutre a tutti gli effetti design molto tipico di quell'epoca e un orologio che ancora oggi secondo me fa una bellissima figura una bella figura sì mi piace molto questo eh sì 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 sempre in casa a Lecoutre questo invece un più moderno eh eh appunto reverse squadra che come tutti i reversi appunto si apre dall'altra parte si può mirare il movimento questo è stato il mio regalo di matrimonio complimenti avevo scelto io però in realtà forse è un orologio che oggi non ricomprerei perché queste dimensioni da orologio sportivo su un orologio però classico fondamentalmente non mi convincono più forse un po' troppo spesso è automatico oggi prenderei un modello classico reverso questo ha la cosa di avere il dual time quindi comodo però ecco a livello di dimensioni forse non mi convince più ultimo orologio in acciaio questo mi gonfia iconico Nautilus primi anni 80 questa è la versione in realtà un po' più piccola è la referenza 3800 quindi cassa da 36 mm e mezzo orologio di mio padre in realtà che lui comprò anni fa questo adesso comincia ad avere un quadrante con questo colore che sta un po' cambiando e molto bello l'orologio molto sottile mamma mia molto elegante molto complimenti molto iconico molto molto passiamo ora agli orologi in oro il primo è questo questo Vacheron Constantin ultra fine 1955 quindi questo è un orologio moderno gonfiammelo ispirato di una reedizione di un orologio appunto della metà degli anni 50 che era all'epoca il più sottile al mondo non so quanti millimetri sia esattamente ma come vedi sottilissimo ed ha questo movimento guarda lì che spettacolo fatto in oro o almeno la struttura del movimento in oro gli ingranaggi non credo proprio no quindi carica carica manuale ed è un oggetto molto molto particolare ovviamente livelli qualitativi molto alti direi di sì complimenti successivo invece questo è un vero vintage questo è un orologio è un day just in oro giallo degli anni credo sia del 62 orologio è questo mio padre che ha la caratteristica di avere i nomi di giorni in spagnolo o rosa cassa 36 mm ho cambiato il bracciale ho messo questo punto verde scuro per renderlo un pochino bello ci sta bene mamma mia più diciamo sportivo ecco tutto in oro non mi piacerà tanto altro basceron questo si chiama Harmony è un orologio che è stato lanciato in occasione di una collezione speciale che è stata presentata per i 260 anni della casa è un dual time quindi doppio fuso orario in oro bianco oro bianco cassa cuscina una 40 mm molto particolare il rotore spero si possa vedere mamma mia ha una cesellatura che si ispira ad uno dei primissimi orologi della casa e quindi è stato fatto in questo modo appunto per celebrare il 260esimo anniversario questa è una serie limitata ma non saprei dirti quanti pezzi ne hanno fatti passiamo adesso ad un altro svizzero di altissimo pregio questo è un Patek Philippe referenze 5235 detto anche a Regulator per il layout appunto da regolatore regolatore minuti minuti con la lancetta centrale il quadrante sopra indica le ore quello sotto indica i secondi questo ha anche la caratteristica di avere il calendario annuale quindi cambia automaticamente il datario secondo la durata del mese tranne che il 29 febbraio quindi una volta ogni 4 anni bisogna aggiustarlo manualmente dietro uno spettacolo mini rotore e tutta la bellezza del movimento Patek esposta in bella vista con tutte le sue lavorazioni ora questo qua quando si dice il fondello a vista in questo caso qua è bene che ci sia perché se no ci perderemo tutta questa opera d'arte vado dall'orologio a farmi aprire solamente per guardarlo e poi richiuderlo va bene così che ben venga aperto così chiaramente però gli riconosco tutto il pregio del mondo astrologio però sinceramente non lo comprerei un regolatore non fa per me quella lancetta delle ore al centro quella di minuti in un altro quadrante quella dei secondi in un altro in altre finestre sì tutti belli questi orologi quando si va anche sull'alta orologeria ma poi in realtà al polso te lo compri te sei avanti sei avanti ce l'hai te lo sei comprato io sono talmente indietro che faticherei probabilmente preferirei prendere qualcosa di più sportivo di più è un peccato essere in queste situazioni nella mia cioè non riuscire ad apprezzare fino a un fondo il possesso di un tale orologio però è così ultimo orologio della mia collezione ecco un altro bacheron e gonfiammelo secondo me gonfiammelo è un orologio bellissimo ha questo quadrante ruotato tipico di questo di questo modello l'american 1921 anche questo un look ispirato ad un design antico o vecchio diciamo però è un orologio moderno questo è nuovo movimento meccanico anche questo movimento da ammirare con la lente nei suoi dettagli cassa in oro rosa 40 mm molto sottile molto molto bello da indossare questo è tutto ti ringrazio ancora per il tuo canale e per lo spazio che concedi agli appassionati come noi un saluto un saluto e niente cosa vuoi che ti dico guarda anche sto qua anche quest'ultimo qua no non rientra non rientra nei miei gusti cioè è viva è viva bellissimo il calibro tutto d'oro rifinito quello che vuoi ma poi alla fine non me lo metterei un orologio così l'unico motivo per il quale è per collezionarlo cioè nel senso avere decine e decine di orologi belli poi dopo a un certo punto non sai più dove buttare soldi allora ti compri un Patek Filippo un Vacheron Constantin strani fatti così no proprio per dire ce l'ho perché a me non è che mi piace tanto capito cosa voglio dire cioè è anche bello cioè per assurdo mi piacciono mi piacerebbe maggiormente eccolo qua il Brightling Cronomat qua del Manga perché rispetto a quegli orologi lì è del Manga però minchia com'è bello cioè minchia com'è bello hai capito indossarlo mi dà proprio soddisfazione uno di quelli lì mi potrebbe dare soddisfazione nel senso che so da dove viene chi l'ha fatto come l'hanno fatto perché l'hanno fatto così ma poi a guardarlo non è che mi piace tanto vabbè questi sono discorsi miei personali che non devono inficiare il valore della tua collezione che è veramente elevato abbiamo visto orologi che mai visti mai visti su questo canale ma nemmeno nell'internet degli orologi diciamo così hai proprio delle belle chicche e ti devo fare anche complimenti perché se io non riesco non riuscissi non riuscirei non riusciremmo non riuscirai ad avere quegli orologi lì invece te con uno schiocco di dita riesci ad averli a possederli a tenerli a spendere gli soldi per comprare quella roba lì che a me non piace bravo 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 discorso complesso spero di esservi spiegato altrimenti vi farò le ripetizioni prossimo video va ciao Davide da Bologna ti mando questo video per presentare la mia piccola raccolta di segnatempo e ti ringrazio sin da ora della gentile ospitalità ospitalità amico qua guardiamo diamo un'occhiatina a quello che ci propone il nostro amico da Bologna che ha messo i profumi delle robe profume messi lì e il manuale dell'eleganza maschile che è proprio ce l'ho scritto io il manuale dell'eleganza maschile l'ho scritto io mia a due mani mi sono messo lì e ho buttato giù tutti gli stilemi che deve seguire un uomo un gentleman I am the gentleman per Antonomasia che mi offre nel tuo interessante canale parto vai subito dall'ultimo arrivato bravo questo Seiko Sla vero 49 complimenti bellino questo è un'edizione limitata ebbè per celebrare l'ottantesimo dell'esploratore Umura e può rientrare effettivamente anche nella categoria cosiddetta Willard per la forma iconica della cassa Tartle è un però un po' rielaborato nelle forme nelle proporzioni ma sicuramente è fedele all'iniziale modello 6105 un blu un blu notte un blu molto intenso questo è il se non sbaglio il 63esimo modello dei 1200 prodotti al mondo quindi nel primo centinaio e calibro 8L35 mi sta dando grandi soddisfazioni grandi soddisfazioni incessantemente da quando è arrivato e niente dai forma bellissima estremamente riconoscibile per la linea e gli stilemi della Seiko certo 44 mm ma sul mio polso da 18 e mezzo davvero galoppano che è uno spettacolo finitura eccezionali eccese direi finitura Zara sulla ghiera via avanti la ghiera no stiamo qua gira che è una meraviglia gira che è una meraviglia e non è in ceramica credo che sia un loro composto ma l'effetto l'effetto effettivamente è un po' quello della della ciorara meno male dai ok dai abbiamo partorito poi abbiamo Captain Cook bronzo bronzo simpatico bronzo il suo cinturino è in pelle cuoio bravo direi sì con lo sgancio rapido bronzo che ha già preso un po' del colore particolare derivante dal procedimento di ossidazione è un powermatic 21.800 si alternanze ora contrariamente alle 28.800 della Seiko 21.600 si vede che 21.600 è un po' più incerta ma orologio che mi dà grandi grandissime soddisfazioni dai colori marrone ceramica la ghiera è in ceramica la lunetta è in ceramica marrone con quei colori autunnali che a me fanno impazzire così come il quadrante molto molto bello 42 mm anche questo me lo godo bravo dai ce la facciamo piano piano con grande piacere poi ti presento il mio Legend Diver da 42 bravo simpatico il calibro è l'L888 nero classico su cui è montato questo cinturino della Lungine secondo me si sposa in inverno quantomeno alla perfezione con lo stile di questo orologio è un orologio di presenza anche questo è un orologio di grande riconoscibilità tutti lo vedono e lo percepiscono percepiscono e lo associano naturalmente a uno dei modelli di punta della Lungine preferisco molto più questo di quello che è uscito da poco il 39 mm vabbè gne 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 perché ce l'hai te calibro fatto da ETA ma in modo specifico per questo modello su questo magari poi ti faccio una domanda nella presentazione dell'ultimo orologio se ci arriviamo che ho in serbo in questo video ok e lo appoggio a meno che non schiatti prima dopodiché ti presento il mio everyday watch che è l'Eberhard Shantigraf bravino questo qua è bello braccialato simpatico Eberhard Shantigraf che indosso diciamo così con piacere in ambiente cittadino è molto scenografico fatto benissimo rifiniture a mio avviso strepitose che non hanno nulla che invidiare con altri ad altri orologi forse ben più blasonati e il calibro è un sellita 300 ma diciamo così come già probabilmente hai presentato anche tu la versione premium quella upgrade rielaborata dall'Eberhard e devo dire che anche questo mi piace molto 41 mm sicuramente lag to lag è impegnativo ma sul mio polso da 18 e mezzo è una dimensione portabilissima meno male dai e via dopodichè l'ultimo orologio della Longine il secondo della mia collezione Ultracron l'ho comprato con la scatola il box che comprende anche il Nato diciamo così orologio a mio avviso strepitoso 38.000 alternanze 36.000 perché un po' che non lo metto ma quando scorre la lancetta dei secondi ha un'omogeneità e un'uniformità di marcia che guardarla è ipnotica 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 la lancetta dei secondi talmente la meccanica scorre via con una continuità che davvero lascia lascia meravigliati va bene dai qui c'è un segnaccio fatto su uno scoglio nei pressi di baratti vabbè io gli orologi li uso ecco questo ti volevo porre questo piccolissimo quesito allora su questo c'è stato il grande dibattito almeno da quel che mi sembra di aver capito calibro non in house non di manifattura però fatto in modo esclusivo da Ete quindi può essere considerato un calibro dedicato alla stregua della manifattura allora su questa questione ti vorrei fare questa domanda con cui chiudo il video se un calibro fosse interamente progettato in house e quindi potesse essere pertanto considerato di manifattura esclusiva di quella maison ma fosse progettato interamente da un'intelligenza artificiale sarebbe da preferire sarebbe da preferire a un calibro invece importato da Eta o da Sellita e poi installato su un orologio e però nel momento in cui questo secondo calibro fosse invece opera di un'ideazione di una progettazione in cui invece interviene l'elemento umano cioè meglio un calibro non di manifattura ma progettato dall'uomo in prospettiva eventualmente futura o un calibro in house interamente invece risultato da una progettazione artificiale ce l'hai fatta grazie ti saluto mamma mia e continua così continua così prolisso e mancanza totale di razionalità cioè una domanda che si poteva fare in due secondi precisano patampitim putum trac e ci hai fatto un giro intorno che alla fine uno si perde cioè a questo punto io dico viva l'intelligenza artificiale che viene che verrebbe in sostituzione di queste persone che dicono e non dicono no? vabbè cerchiamo di ora rispondere begli orologi cioè begli orologi veramente c'hai sbagli sempre le alternanze orarie perché di quelle del rado cos'hai detto 21.800 quando sono 21.600 e dell'ultra come hai detto 38.000 sono 36.000 insomma c'è un po' di confusione sulle alternanze in testa ma non solo quelle un calibro progettato dall'intelligenza artificiale questa è una cosa interessante ci si arriverà perché l'intelligenza artificiale noi la vediamo come una cosa astratta con delle applicazioni per adesso abbastanza contenute ma è un pochino come quando è uscita internet quando è uscita internet la gente diceva ma cosa serve internet? eh no a mandare le mail chi ce l'ha le mail a cosa serve? a niente internet per guardare a cosa serve internet invece gli sviluppi della rete hanno portato praticamente a inventare addirittura migliaia e migliaia di posti di lavoro prima inesistenti cioè hanno cambiato proprio il mondo del lavoro cioè è una rivoluzione allo stesso modo questa intelligenza artificiale io non vedo perché non vedo oltre il mio naso perché sono ignorante non vedo dove potrà arrivare ma sicuramente arriverà progettare il calibro già oggi chi progetta i calibri nelle sedi degli orologi lo fa al computer con il CAD con le simulazioni al computer tutto quello che vuoi te poi alla fine c'è l'assemblaggio le varie le varie modifiche i test tutto quello che vuoi te ma si parte da nemmeno un foglio bianco dal computer da una base da interazione interattività al computer quindi vai a chiedere a quelli di 50 anni 60 anni fa del computer magari ti dicono no che va del retro satana il computer no dobbiamo fare tutto a mano perché adesso ti dici l'intelligenza artificiale va del retro satana dobbiamo continuare a farlo al computer e sono i passi che va avanti l'umanità normalmente quando si passa dalla moto a carburatore a quella iniezione così no iniezione elettronica e poi dopo diventare la normalità poi diventerà l'auto elettrica adesso siamo no l'auto elettrica vedrai che diventerà la normalità e ci sembreremo scemi quando utilizzavamo quella benzina e funziona così il progresso va avanti quindi un bel calibrino progettato dall'intelligenza artificiale perché no ben venga soprattutto se riesci a trovare qualcosa di originale di differente perché i calibri in house siamo tutti qua a riempirci la buca con i calibri di architettura proprietaria ma in realtà perché deve esistere un nuovo tipo di calibro perché io mi metto lì progetto mi sforzo per cercare di offrire qualcosa di migliorativo rispetto a prima qualcosa che mi offre più sottile più facile da riparare che mi ovvia a quel problema che hanno di solito gli orologi quindi un progresso quindi io lo faccio per cavoli miei perché lo voglio è fatto così ma si sta arrivando al punto che è necessario dare al pubblico un calibro in house solamente per il gusto di essere un calibro in house capito cioè non c'è nessun miglioramento rispetto a un ETA 28-24 di fornitura un Sellit Sv200 eppure lo faccio perché lo devo fare perché il pubblico mi richiede di avere qualcosa di differente dagli altri allora ti fai un calibro differente dagli altri le cui basi poi sono sempre le stesse perché se noi abbiamo capito che su un ETA 28-24 il treno delle ruote del tempo deve essere così è il meglio che è possibile i ponti devono essere messi così questo deve essere messo così è inutile no? perché devo fare delle cose nuove se quelle lì vanno già bene per assurdo però il pubblico vuole la riconoscibilità vuole avere un orologio che è dentro un calibro in house e noi gli facciamo il calibro in house anche se non sappiamo dove andare a migliorarlo quindi si tende a fare un calibro in house ad esempio Yamaha con il micro rotore che non è per nulla migliorativo rispetto ad altro non è più sottile però l'hanno fatto no? per dare qualcosa in pasto all'acquirente sono anch'io prima a caderci però poi io però non mi faccio nemmeno fregare perché se a me un orologio mi piace con un calibro di fornitura dentro ci spendo il soldo e me lo prendo capito boh mi sembra di aver spiegato poi boh non lo so prossimo cicchini buongiorno buongiorno sono mi chiamo Mario meno male e ho visto i tuoi video che mi sono piaciuti anche perché sei abbastanza autorevole e te ne tendi avevo deciso di farti un video di quanto riguarda quei tre o quattro orologi che io ho e che volevo che tu mi dasse tu mi desse un giudizio certo non sono un collezionista con tanti pezzi ma comunque ho quattro cinque pezzi e mi ha capito sono affezionato e volevo capire che valore che tecnicamente se sono validi o no ragazzi ora questo qua mi prendo spunto perché volevo capire se sono tecnicamente validi io per la maggior parte delle situazioni esprimo un parere personale anche sul discorso delle aziende che ci sono dietro sul gusto estetico per assurdo dico i numeri romani quindi voi non dovete prendere per orocolato quello che io dico oltre a quello che dico io andate un pochino a studiare in autonomia cercate di capire se dico delle bischerate o se quelle che dico sono opinioni personali tranquillamente ribaltabili ok perché non vorrei che ora questo qua l'amico Mario questo qua è brutto l'amico Mario si appende alle mie parole alle mie labbra e poi tutto quello che dico magari gli rovino la collezione o gliela esalto per un cioè insomma eh mitighiamo un pochino i miei giudizi perché non questo è il primo praticamente è un tellaro un bulovacutron che è al quarzo con bracciale molto bello molto bello come oggetto è un è un po' è un po' massiccio ma comunque è un orologio che fa la sua figura certo e vorrei possibilmente specialmente su questo un giudizio tecnico e di valore ora questo qua è ad esempio è uno di quegli orologi io ti do il mio giudizio no tecnico di valore no perché io non sono un esperto tecnico di valore questo qua è un bulova automatico ok ed è a disposizione dei contatori che vedo lì sul quadrante secondo me dentro ha un eta 7750 o un sellita sv500 non so non ho idea di che ora bulova fa parte del gruppo del gruppo citizen quindi in questo caso è ancora uno di quelli che incassavano i calibri automatici svizzeri di fornitura perché se no adesso incassano i miei otto vabbè vediamo è carino nel senso che se a te piace va benissimo è molto moderno se non altro non assomiglia nemmeno a nessun altro orologio no cioè non 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 spicca né per originalità né si può affondare perché assomiglia troppo troppo è un po' anonimo diciamo così ma sì non so quanto è di diametro tutto acciaio così non è male come orologio dai non è male secondo me un bulova così in collezione ci sta dai sono partito col piede sbagliato nel senso che volevo già fossarlo invece devo dirti che secondo me automatico swiss made 7750 poi le dimensioni non lo so non so come sta al polso sicuramente è spesso perché un cronografo automatico è sempre spesso poi va bene dai e questo è il primo eh vai con calma via c'ho il secondo il secondo facci vedere questo è un horror master top automatico cronografo cinturino in pelle cambiato diversi anni fa però sempre con la con la sua chiusura originale bello un bello orologio che praticamente soddisfa le mie esigenze allora questo qua è il rail master io di questa di questa serie rail master qua questa qua con il quadrante tenevo d'occhio quelli degli anni primi anni 2000 con il diametro cassa da 39 che assomiglia ad un nuovo abbastanza all'acquaterra il fatto è che l'acquaterra ha tutti quei begli indici in rilievo applicati no questo qua invece completamente stampato però era bello da avere la versione solo tempo sto parlando questo invece è la versione cronografo di quella versione lì e non si vede spesso secondo me anche sto qua è bello grandino perché a vedere dove sono piazzati i contatori lì i sottocontatori e sono bene al centro e quindi è bello grande sto qua di diametro il rail master qua cronografo però mi sembra che ti piacciono gli orologi imponenti comunque tra l'altro anche certificato cosco è un bello orologio sì 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 non si vede spesso bravo è bello sia per quanto riguarda la tecnica e quanto riguarda la visione l'apparenza insomma come orologio mi sembra abbastanza bello sì è bello anche voi vorrei un giudizio su di questo grazie te l'ho dato e questo è il secondo sì la scatola guardate la scatola omega classica che si rovina un orologio che comprai nel nel 98 un orologio un bon messier un bon messier anche questo è è al quarzo l'avevo preso come al quarzo è questo mi piaceva molto la linea ma c'è scritto automatic questo sarebbe lento sarebbe automatico nasceva col cinturino in pelle però poi per dargli un po' più di importanza ci feci mettere il bracciale ho visto un orologio molto bello molto bello che ora forse è è un po' più da un po' più da da donna che da uomo insomma oggi forse era una cosa abbastanza originale anche su questo ci vorrei un giudizio è il giudizio che ti dico che c'è il secondo orologio che mi dici che è al quarzo invece è automatico ora mi viene il dubbio che tu non sia insomma non sai nemmeno leggere praticamente perché se sul quadrante c'è scritto automatic perché mi dici che è al quarzo cioè sei convinto veramente di avere due orologi al quarzo invece sono automatici questo è il problema che mi pongo io cioè vuol dire che non ti accorgi nemmeno di come di come ruotano le lancette del fatto che lo muovi si carica devi cambiare la batteria da quanti anni è che ce l'hai la batteria l'avresti già dovuta cambiare se fosse al quarzo vabbè facciamo finta che va tutto bene come si può dire va tutto bene tu qua non mi piace non mi piace questo orologio però se non piace a me non vuol dire niente poi ti dici che è da donna cioè bisogna anche un attimino poi sfatare indossare un bell'orologino così piccolino al polso un signore come te vai a sfatare il mito cioè sbatterse negli scatoloni di quello che dice la gente e metterti un orologio piccolo che potrebbe sembrare da donna al polso e fai valere la tua personalità fai valere le tue decisioni cioè anche questo ragazzi nell'orologeria non sempre stare a seguire le mode quello che dicono gli altri quello che il Rolex Submariner l'orologio che tutti devono indossare l'orologio da donna l'orologio piccolo l'orologio grande te ti metti quello che ti pare a te e se qualcuno poi c'ha qualcosa da dire te gli ribatti a muso duro punto e basta andiamo avanti guardiamo se c'è altri orologi al quarzo dai poi c'è questo qui che ho visto presi a forte dei marmi che è un golden eagle un setto automatico ah meno male è un orologio non tanto grande ma comunque è un orologio che è abbastanza piacevole cinturino in pelle originale e anche questo ci sarebbe un po' da 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 farlo revisionare un po' perché perdeva anche il minuto e beh comunque è un orologio che mi è piaciuto tanto e l'ho portato per tanti anni sì bravo tutto bene bene ti ringrazio in attesa di un tuo giudizio ti saluto saluti e tante cose alla carriese va bene bene alla carriese ciao ciao carissimo Mario un abbraccione un abbraccione al carissimo Mario che ci ha fatto vedere i suoi quattro orologini tutti belli e simpatici nulla da dire anche questo sector qua golden eagle golden eagle è brutto però fa il suo perché perché è un orologio degli anni 90 e te lo sei indossato per tanto tempo te lo sei scelto te te lo sei preso lo fai anche riparare va benissimo 7750 anche quello lì come il bulova ora pensavo che fosse al quarzo e l'unico l'unico che è al quarzo veramente mi dice automatico che facevi alla rovescia invece l'hai azzeccata è automatico anche questo con il 7750 è brutto dai è brutto però ci sta nella collezione con altri belli orologi quelli di prima erano belli quindi uno un pochino così ci sta e ti promuoviamo Mario a Mario ti promuoviamo belli orologi anche tecnicamente validi vai tranquillo non ti preoccupare di quello che dicono gli altri e nemmeno di quello che dico io non conto mica niente bravo bravo Mario ciao Davide sono un ragazzo di 22 anni della provincia di Milano inizio volevo farti complimenti per il canale e poi di farti vedere quattro orologi vintage dalla mia raccolta vai il primo è questo dress watch manuale della Efer mai visto è stato il mio bisnonno dei primi anni 40 non ho trovato molto su un marchio che dovrebbe essere uno dei tanti marchi svizzeri scomparsi con la crisi del quarzo la crisi del quarzo è sempre l'aceto il mio bisnonno della Lowenthal che come in marchio precedente dovrebbe essere un marchio svizzero scomparso con la crisi del quarzo monopusher è un cronografo monopussante anche questo dei primi anni 40 che bello questo cavolo bravo che culo che c'è il terzo è il primo questo che ho effettuato con i miei soldi volevo un bracciolato quindi ho preso questo 6.5 che grazie alla referenza sul fondello sono riuscito a scoprire facilmente tra le tabelle online che è stato prodotto nel luglio del del 1985 simpatico l'ultimo che è il mio preferito è quello che mi sono fatto regalare per la mia navia è questo Weiler Cinematic nel 1994 pensate che bello questa è un'edizione limitata infatti al numero 310 su 999 che come scritto sul fondello ricorda l'Italia campione del mondo nel 1934 il 60esimo anniversario presenta la fibra originale insomma ho cambiato solo il cinturino e perché è stata realizzata questa edizione limitata con il 4 contatori uno con il fuselario infatti in movimento 7,750 che è la complicazione del fuselario all'ora 3 troviamo la data all'ora 9 piccoli secondi e in alto possiamo vedere il contatore dei dei minuti cronografici che per ricordare sempre la partita di calcio era una stazione azzurra diciamo si ferma a 45 minuti questo è stato realizzato come 60esimo anniversario della vittoria dell'Italia nel 1934 perché nel 1934 la nazionale italiana utilizzava Valervetta come una delle trovate pubblicitarie una delle tante come ad esempio il lancio dei Valervetta da Natura Eiffel per dimostrare la resistenza degli orologi e la durabilità del meccanismo Incaflex diciamo uno dei primi meccanismi durabili resistenti per gli orologi automatici vediamo qua infatti nel librato originale le firme del mister Pozzo e tutti i campioni di nostra nazionale italiana che insomma dichiaravano come questo trovato pubblicitario di utilizzare Valervetta durante le loro partite per allenamenti come vediamo un grande Giuseppe Meazza Combi Orsi e Cesarini insomma io oltre a essere un grande appassionato d'orologi sono un grande appassionato di calcio ed è la nostra nazionale quindi appena l'ho visto me ne sono innamorato e me ne sono fatto regolare per la laurea bravo grazie mille Davide grazie a ti grazie a ti un Villervetta del 94 che insomma quando si parla degli orologi anni 90 si vede sempre il design che fa un po' storcere il naso in questo caso è un design senza tempo è bello anche al giorno d'oggi quel Villervetta lì cronografo e sì Villervetta o Villera a seconda di quel movimento lì come erano messi perché poi erano due marchi diversi sono stati pionieri del marketing diciamo quelli lì erano i primi esempi di endorsement no? l'idea di dare alla nazionale italiana appiccicargli l'anomea di utilizzatori di questo tipo di orologi del loro marchio è una trovata di marketing negli anni 30 insomma era anche alquanto innovativa come lanciarlo dalla torre Eiffel sì sì loro sono sempre stati i primi poi c'è stato un periodo che si sono un po' persi ora ultimamente Villervetta sta un po' rinascendo si stanno riproponendo sul mercato insomma con un reparto dedicato esclusivamente a Villervetta proprio hanno cambiato organigramma nell'azienda per dare più spazio a questo marchio e quindi tanto di cappello beh gli orologi dà nulla da dire il secchino 5 lo sappiamo tutti com'è il Villervetta lì del 94 però l'orologi c'è si è fermato lì quello lì l'hai preso alla laurea nel 94 quell'altro il secco 5 insomma chissà quando l'hai preso ha vinto degli anni 80 vabbè non so si è fermato la scimmietta sulla spalla non reclama la nocciolina quotidiana mensile annuale una nocciolina non vanno ma gliela vuole dare non gliela vuole dare e allora gliela dare muore muore come il Tamagotchi gli va andato ragazzi mi sembra di aver detto tutto e a me non è che possiamo star qui a snocciolinare le scimmie io devo andare a vedere i video dei gattini su instagram è tardi devo andare vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao